Musica Amici cari rieccoci in vostra compagnia, questa volta con grande piacere da Londra per l'edizione 2018 del London Wine Fair con me un caro amico Alvaro Deanna. Alvaro prima parliamo di questo evento, poi ci allarghiamo con Italia Wine Expo 2018 perché spieghiamo che cosa stai realizzando. Essere a Londra, quando si parla di vino, guai se non ci sono i vini italiani. Assolutamente, anche perché Londra è il terzo mercato per il vino italiano e il primo per il prosecco, quindi qui bisogna essere. Passano tutti gli più importanti vini e ci sono tutte le più importanti opportunità. Esserci è doveroso. Centinaia di espositori mi dicono dall'ufficio organizzativo da oltre 40 paesi, però l'Italia è ben rappresentata con un po' tutte le regioni. Sì, è rappresentata con tutte le regioni, con consorzi, associazioni e tutto quello che si voglia e anche molte cantine sole o anche molte iniziative come la nostra. Esatto, iniziative come la vostra in questo caso. Leggo Italian Wine Expo 2018, tu stai percorrendo mezzo mondo con i vini italiani, cosa stai combinando? Beh, è un'iniziativa che stiamo portando avanti da 13 anni sotto questo marchio, questo è Vini da Terra Estreme, sono due marchi per cui raccogliamo aziende italiane che hanno necessità di avere incontri con operatori professionali, quindi portatori, distributori l'oreca in vari paesi emergenti del vino, dove c'è molta richiesta del vino. Allora, rimanete con noi per il nostro viaggio londinese di questa edizione 2018 del London Wine Fair, fra pochi istanti incontro una bella signorina. E nell'ambito del London Wine Fair ho il piacere di incontrare Alessandra Di Nato, che è una sommelier, ma perché la incontro? Perché io questa mattina a un certo punto, girando per la fiera, ho visto tanta gente in coda che doveva entrare per un evento importante. Poi ho trovato te sul palcoscenico a presentare i vini italiani in lingua inglese, lo hai fatto veramente molto bene, ti faccio i miei più cordiali complimenti. Però spieghiamo, che cosa hai fatto stamattina? Stamattina ho presentato i vini italiani che sono qui con Italia Wine Expo. Tanto abbiamo parlato della geografia, abbiamo parlato delle denominazioni, quindi la differenza fra DOC, IGT e DOCG. Abbiamo parlato anche dello stile contadino, rispetto a uno stile un po' più internazionale. Abbiamo parlato della differenza e la scelta di fare dei vini con vitigni internazionali o vitigni autoctoni italiani. E poi siamo andati a descrivere azienda per azienda, assaggiando i loro vini e parlando dei diversi terroir da nord a sud dell'Italia. Ecco, avete toccato più regioni perché c'erano i vini di più regioni presenti qui a Londra. Esattamente, da Veneto all'Abruzzo, alla Lombardia, per arrivare fino in Sicilia, c'era comunque una bella interpretazione del territorio italiano in diversi aspetti. Incontriamo alcuni degli espositori presenti qui a Londra, parliamo dei distributori, c'è Mark Robert al mio fianco, loro lavorano chiaramente sul territorio. Mark, vuoi raccontarmi per potesia come si svolge il vostro lavoro come Lancaster Wines? Lancaster Wines hanno diverse tipologie di vini, hanno vini internazionali, quindi hanno anche vini italiani. Hanno anche la possibilità di imbottigliare loro dei vini, quindi imbottigliarli con il loro brand, con la loro etichetta. E questa è una cosa molto importante per l'economia inglese, attualmente. Parlato giustamente di vini italiani, quali sono le regioni e i vini che vi piace lavorare qui a Londra, o per meglio dire in Inghilterra, con le nostre cantine? Il mercato italiano qui in Inghilterra è soprattutto forte per due vini, il Prosecco e il Pinot Grigio. Comunque c'è tanto interesse su altre varietà, su varietà indigene, su diversi vini e loro comunque devono avere questi vini più forti, più importanti, perché per il loro business è importante, però le cose stanno cambiando e c'è interesse. Questa volta incontriamo alcuni dei produttori italiani presenti qui a Londra, una giovane signorina a mio fianco, Potere Roberat, Virginia Camolei. Siamo in provincia di Venezia e più precisamente a Pra Maggiore. Virginia Cara, essere a Londra è importante perché è un mercato che conta, è un mercato dove dobbiamo esserci. Dimmi la tua esperienza londinese. Beh bene, sta andando bene, siamo emozionati, è la prima fiera che facciamo all'estero come Potere Roberat, quindi siamo molto fiduciosi, crediamo molto in questo mercato, crediamo molto nella nostra azienda e nella sua composizione sia a livello terreno che di squadra, quindi ci auguriamo il meglio e siamo molto contenti di essere partecipi. Voi siete una piccola realtà, mi pare, sulle 10.000 bottiglie. Che vini fate? Noi ci occupiamo un po' di tutto, nel senso che prendiamo dai vini rossi ai bianchi, come selezioni presentiamo l'Ombra Sporca, che è un Merlot e viene chiamata Sporca apposta perché viene sporcato con del Cabernet, dipende dall'anno. Poi abbiamo il Refosco e il Malbec che sono qui presenti.